Milano Congressi, Lino Ricchiudi, che mi accompagna, anzi lo accompagno io, testimone della battaglia quotidiana dei lavoratori autonomi e delle partite IVA. A te il microfono della conferenza programmatica, Lino. Buongiorno a tutti. Inizio questo mio breve intervento regalandovi due flash. Marzo 2020, inizio pandemia, tornano ancora alla mente le parole e le dichiarazioni dell'allora Ministro dell'Economia e Finanze. Nessuno perderà il proprio posto di lavoro. Secondo flash. Dicembre 2021. In un anno e mezzo chiuse 340.000 partite IVA. E non venivamo da un periodo di arcobaleno e farfalle. In meno di un decennio la sinistra è stata capace di decimare, con le sue politiche vessatorie, il lavoro autonomo. Le ultime rilevazioni Istat del mese di gennaio, per la prima volta, pongono il numero delle partite IVA attive sul nostro territorio al di sotto dei 5 milioni. Un numero che non si era mai raggiunto, a livello minimo, da quando erano iniziate le statistiche dell'Istat. Negli ultimi anni, quasi 2 milioni di lavoratori autonomi hanno chiuso la partita IVA e, di conseguenza, la propria attività. Un'attività fatta con enormi sacrifici, un esercito di fantasmi, gente ancora senza lavoro o con piccole o essigue buste paghe, la maggior parte dei quali rincorsi dall'Agenzia di riscossione. Bisogna occuparsi di questi cittadini, di questi italiani e liberarli dalle catene di questi debiti, perché non li hanno contratti per propria volontà, li hanno contratti perché portare avanti un'attività con il 60-70% di total tax rate è impossibile. Io seguo le politiche, anche economiche e fiscali, del partito, da partita IVA. Ci si aspettava che in questi mesi, dopo tutte queste problematiche, comunque si andava incontro a quelle che erano le esigenze dei lavoratori autonomi e delle partite IVA, abbassare la pressione fiscale, liberare da quelli che sono i costi fissi, come per esempio i minimali IMSS che non sono legati al reddito e grazie anche a quelli che poi maturano le varie cartelle esattoriali. E' il governo, questo governo, il governo dei migliori a trazione sinistra, in quale direzione ha portato il Paese? Qual è stato l'ultimo decreto? L'incrocio dei post con gli scontrini con l'Agenzia delle Entrate. Il chiodo fisso è sempre lo stesso, partita IVA uguale evasori. La sinistra continua ad essere una vera e propria sciagura per questo Paese. Io vi chiedo uno sforzo mentale. Cosa passa nella testa di un over 40 o un over 50 titolare di un'attività che con i ricavi della stessa riesce a pagare i fornitori, a pagare i dipendenti, a mettere insieme pranzo e cena, ma non riesce a pagare le tasse? Cosa dovrebbe fare? Ragion volesse essere che deve chiudere. Sì. E poi? Inizia a girovagare per i CAF? Lo sapete che la stragrande maggioranza dei lavoratori autonomi partite IVA non sono mai entrati in un CAF per il semplice fatto che sono sempre stati abituati a ragionare con le proprie forze e non ad aspettare la mana dal cielo del reddito di cittadinanza. La fuori, tra ex partite IVA e partite IVA che stanno o dovrebbero chiudere, ci sono 4 milioni. Sono convinto che alcuni sono anche in questa sala. Sono impauriti, sono spaventati. E a tutti questi bisogna dare una risposta, bisogna dare una speranza. E questo l'augurio che io faccio a loro, con il mio cuore, a questo popolo di fantasmi. Buon primo maggio a voi. Non sarete mai soli. Ci saremo con voi. Grazie. Grazie, Rino. Grazie, Rino Ricchiudi. Riprendiamo.